Benno Neumar è stato giudicato colpevole dell'omicidio dei suoi genitori Laura Perselli e Peter Neumar avvenuto il 4 gennaio 2021, condannato all'ergassolo e accusato anche dell'occultamento dei loro corpi nel fiume Isarco. La Corte d'Assise d'Appello ha confermato questa sentenza rispingendo la richiesta di accettare un programma di giustizia riparativa avanzata dal condannato da svolgere con la sorella Madè e la zia. Neumar era assente in aula al momento della conferma della condanna che era stata originariamente emessa in primo grado il 19 novembre. La richiesta di conferma della condanna è stata formulata dalla procuratrice generale della Corte d'Appello Donatella Marchesini.